Allora io sono Marcus Gronda, io sono Shiffly Mine, signore e signori bentornati su Astronir, dopo l'ultima disavventura con il camion della morte abbiamo deciso di lasciar perdere per ora e invece esplorare l'ospizio, l'ospizio, mi sono messo un habitat qua sopra, perché? Perché magari posso colonizzare un nuovo mondo, senza stoccaggio, senza stoccaggio, vediamo come funziona, c'erano dei buchi qui, vedi? Dove buchi? Tu sei un buco, come ti permetti? Allora vediamo un po', nell'ultima puntata io stavo qui davanti e dicevo, però in realtà cliccando qui signori possiamo andare a visitare l'intero sistema. Cos'è quello rosso? Non ci posso andare. No, cos'è incolto? Allora qui abbiamo terrestre, incolto o esotico? Esotico. Andiamo su quello incolto? No, sarà vuoto e triste. No, tu sei vuoto e triste. Come ti permetti? Non vuoto, non... No, sei incolto. Sì, oh cazzo, ma quanto consuma? Porca puttana quanto consuma. Vabbè, dov'è? Dov'è? Scusate. Ah, è questo. E poi scelto. Andiamo qui. Ho molta paura. E ho molta paura del fatto che rimanevo bloccati qui per sempre, ragazzi. Per sempre, esatto. Mi hai parcheggiato qui, dai. Che figo. Perché mi hai parcheggiato qui? Dove posso metterlo questo? Tipo, lo appoggio qua? Sì. Ma non si... Non si appoggia. Non si appoggia? Pensavo che tipo potesse trasferire... Vediamo che cos'è questo? Sì! Sì, hai fatto una base. Sì, ho fatto una base così posso dormire. Vedi, tu potevi attaccarci delle cose. È vero, è vero. Estremamente arrabbiata. Dove potevo attaccarci delle cose? Ai buchini. Ok, d'accordo. Sì. Che cosa sono tutti questi cosi? Sono ricerche. Oh mio Dio, sono ricerche. Sì, ma non c'è niente da ricercare. Guarda quanti! No! Verda! E qui la roba? E qui? E qui? Questa qui è laterite? No, è ramen. È ramen, ragazzi. È rotto, non ti dà. Malachite. Malachite. Ma scusate, ma qui il composto non c'è? Perché... Cioè, è tutto molto bello, però non c'è il composto. Che mondo triste. È un mondo bellissimo, invece. Cioè, è pieno di ricerche. Eh sì, ma se non c'è il coso? Se non c'è il coso, coso. Oddio, il coso? Un geyser. Buttati dentro. Mi butto dentro. Sì. Evviva! No, non succede dietro. È vinto. Allora, mi pare di capire che qui ci sono risorse rare, ma non risorse comuni. Oh! Aspetta, aspetta, vediamo un po' qua. Ramen, ramen. Ramen? No, ma questo qui, che cacchio sono? Sono delle palle. Eh, no, sono proprio palle finte. Che cattiveria. Allora, dobbiamo vedere se riusciamo. Ma è tipo la luna. Eh sì, è una cosa del genere. Intanto, perché non mi mette? Ah, sì, no, me lo mette, me lo mette. No, non c'è il compound, non c'è. Che cos'è qua la roba là? Funghi. Funghi velenosi e cose cattive. Delle spuntone proprio. Non vedo, non vedo per niente cose che ci potrebbero essere utili. Vabbè, ma chi se ne frega. Noi torniamo a casa e ci portiamo del composto. Così iniziamo a fare una base... E se ti riesci a tornare a casa? Eh, se non ci riesco sto una cacca, amore mio. Dici che è poca? Dici che ho fatto un viaggio... È precisamente metà? Oddio, no, sembra di meno di metà. Oh, regà, proviamo che vedevo di... Hai portato un po' di grazzino. Sì, me la dovevo portare. Ho forse sbagliato, sì. Ok, ti prego, dimmi che basta per tornare a casa. Che cos'è quella? Che? Oddio. È una nave spaziale. Cos'è? Ho intentato saperlo. Ok, va bene. Dimmi che ritorniamo qui. Sì. Oddio, sta finendo... Sta finendo tantissimo. Sto finendo. Mi è bloccato per sempre. Oddio, è passato dentro al pianeta. C'è una manovra un po' strana. Oh, ecco casa nostra. Casa, fammi cliccare. No, fa' cura. Fammi cliccare, sì. Ok, ok. Mamma mia, pensa se tipo... Facciamo un click sbagliato. Sì, morirevi. Ero perso, per sempre. Lagga un pochino quando ci sono le fasi della discesa, ma non quanto No Man's Sky. Ok, allora, vediamo se questo attrezzo, sto coso qui, ci tira fuori qualcosa di imporciance. Andiamo a vedere. Non ti scena a visi, no. Non ti scena a visi, no. Composto. Vediamo un po'. Blum, 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 blum. Shifti, non morire. Una ricerca, una ricerca, una ricerca, una ricerca. Sì? Oh, eh? Sì? Trapano. Cosa? Il trapano. Cioè, puoi scavare tipo... Ma che figo. Sì, voglio il trapano. Dov'è la... È qui. Trapano. Trapano, trapano. Come si fa il trapano? Non credo qui. Sì. Sì, sì, sì. Trapano con due di rame. Io lo faccio immediatamente. E che cos'è? Tipo un corri? Che tu lo metti e scavi? Non lo so. Oddio. Sì. Non si... Sembra... Come funziona? Sembra un dildo di quelli che vibra. No. Che dildo hai visto, scusa? Non lo so. Non si può neanche appoggiare qui. Mi sa che va... Allora, aspetta, aspetta, aspetta. Sì. Vi ricordo distintamente... Vieni qui, tu appoggia di qui e tu appoggia di qui. Di aver visto un... Sì, la gru, esatto. Bravisci, visci. Quindi facciamo così. Ci abbiamo pure tre posti. Facciamo la gru. Con cosa? Con tanto rame. Tanto rame, tanto rame. Io, se non sbaglio... Avevi preso un falco. Qui ogni volta lo ruba. Lo mettiamo uno qui. Uno qui. Uno qui. E l'altro rame va qui. Per effetto, signore e signori. Costruisci la gru. Cioè ti scafa dal gru. Non lo so. Se lo fa è tipo la cosa più bella del mondo. Potete uscire dalla grotta senza uscire e morire. Esatto. Esatto. E cons... Il cazzo è grosso, eh? Eccolo qui. E immagino che adesso questo qui ci si attacca... Ti attacchi? Sì? Oddio. Come funziona? Oddio, che impressione. Ti prego, dimmi come funziona. Forse prova a cliccare, tipo come quando scavi. Quando scavo scavo con E. No, non so come funziona, ragazzi. Vediamo nei controlli, i comandi. Oddio. Che brutti, però, ragazzi. Non ho capito. Asterler. Sistemateli un pochino. Occorre oggetto. Scava terreno, si spiana. Come spiana? C'è un com... No. Control. No. No, c'è un comando per spianare. Io facevo così e lui scava... Va bene, ok. Detto ciò, dobbiamo scoprire come funziona, quindi andremo sulla wiki. Cioè, no. Andremo su... Esatto. Signori, sono un bimbo felice. Ma che cazzo? Non ho capito, le passo mio marito. Cioè, allora, scusate. Non ho capito. Cioè, un posto a sedere sul crane. Io adesso vado in giro. No, scendi da qua e entra qui dentro. Ma dov'è l'utilità? Io vado tipo, che ne so, in giro. Tutu, 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 tutu. E trovo... Ecco, laggiù c'è, c'è qualcosa. Andiamo laggiù? Andiamo a vedere come cazzo funziona sta giavattata. Oh, c'è qualcosa. Ok, fermati qui. Adesso entra qui dentro. Pronto, no? Entra qui. Sull'altro po'. Esatto. E adesso con la manina magica, posso fare così? No. Oddio, ragazzi, sta scavando come un procione in capire. Ma come mi serve? Ma guarda. Scava più veloce. Sì, ma cazzo, ma a che mi serve? Appunto. Oddio. Cioè, mi posso fare i segni sulla sangue. No, 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 non riesco più a uscire. Ragazzi, ho il bracione. Non lo so, è molto figo. Se devo essere onesto è molto figo, però... Ma inutile. Non è che mi ha convinto più di tanto. Va bene, va bene, ritorniamo a casa. La posso mettere sulla... Ma poi è scatto, perché devi stare sul coso. Sì, ogni volta. Molto arrabbiata. Molto arrabbiata con Ciccio Puzzo. Allora, qui mettiamo... Attacchiamo questo. Thank you. Molto bene. Che mamma mia, di tanto c'è la telecamera che impazzisce male. Qui volevo fare un altro condensatore. Vuole altri due di rame. Qui ho la Malachites. E questo qui, se non sbaglio, da lontano. Sembra alluminio. Proprio quello che cercavo. Alluminio, di nuovo. Questo è rame. Questo è rame, però, un pezzettino piccolo. E non ci aiuta. Arriva la tempesta, la tempesta. Arriva la tempesta, la tempesta, la tempesta. Quindi, signori, aspettiamo dentro qui. Signori, sono pronto per la colonizzazione spaziale. Addio e grazie per tutto il pesce. Tra l'altro, adesso sentiamo che ho ancora il full di carburante, perché ne ho attaccati altri. In questo modo non ci sarà il nostro piccolo problema di prima. Allora, ritorniamo su incolto. Che brutto. Che ne so, tipo. Incolto. Così, così, gli astronauti dicono. Esatto. Molto bene. No! Torna su. Cosa nostra. Non ho capito perché non me lo fa girare a me, ma devo girarlo io. Però va molto bene. Va molto bene. Vi devo ricordare che ho dell'ildrazina appresso. e speriamo che ho tutto quello che mi serve per fare il gironzolo. Non clicchiamo sbagliato. Dove è incolto? Questo è incolto. Sono molto arrabbiata. Che orbita intorno a Forestoso. Eccola, clicca. Clicchiamo qui. E andiamo lesti nel nostro punto di cicciottamento. Speriamo che questi posti ci diano cicciotte cose per cicciottare le cicciotte. Allora, io mi sono portato un sacco di robetta. Ok? Oppela. Eccola qua. Per Messico. Devo salire. Per Messico. Mi sembra di vedere molto vento. Quindi non sarebbe male... Ecco, esatto. Sì. Molto bravo. Per effetto. Stoccaggio. Allora, prendiamo questa resina. E fai una piattaformina. E facciamo una piattaformina qui. Perfetto. Da qua si può staccarne un'altra e che io non voglio sprecarla tutta quante. Ma intanto appoggiamo questo stoccaggio qui. Facciamo così di qua. Un pochino più di qui. Grazie. Molto bene. Per effetto. Ma dove vai? Dove vai? Dove vai? Resina. Vieni qui. No. No. Che cosa sta facendo della sua vita? Cioè, il vento che la porta lontana. Allora, visto che non voglio che il vento la porti lontana, la facciamo per di qua. Molto better. E vai così. Oh, ci stiamo espandendo, ragazzi. Per fare una piattaformona, devo mettere due di resina. Che però non la vuole più, perché deve essere una piattaforma vergine. Da quello che ho capito. Vergine. E se non ho della resina a presto... Oh, che culo ce l'ho. Perfetto. Allora, aspettate. Perché stavo per cagarmi sotto. Dove vai? Oh, viene qui. Perfetto. Andiamo a mettercela sopra. Vai così, fammi la piattaforma. Perfetto. Stampante. Vuole il rame. Il combustibile. Alla ricerca vuole il composto. Io ho pensato. Invece di fare su e giù, faccio la ricerca direttamente qui. Quindi vi prendo il compostone. Anche perché c'è solo uno sulla lana verde. Anche se, effettivamente, ora che ci penso, non ho elettricità. Fai un pannello? Come faccio a fare la ricerca qui? Faccio un pannello. Per pannello serve la stampante e il compost. È vero. Ma non è che i miei pannellini solari... Ah, dico, portatelo. Questo è il segnamento. Il pannellino solare funziona. Gli dà un po' di corrente. Incredibile, amici. Non me lo sarei mai aspettato. Molto, molto lento. Va bene. Allora, noi intanto ci riprendiamo l'ildrazina qui. Spray nasale. E andiamo a cicciottare il nostro motore. Ma c'è una scusa. Uno. Sì, mi dica. Se lo porti da casa un pannello, lo attacchi lì. Perché non si cicciotta? È già piena? Sì, potrei farlo. Potrei farlo. Perché quel pannellino è un po' triste. Quel pannellino dici che ci mette 750 secoli. Giustamente. Ha ragione anche la signorina Shifty. Mi viene in mente adesso che però io ho una batteria appresso. Che potrebbe aiutarmi. Vediamo un po'. Ma la batteria non è male. Non è male. In combo vanno. Allora, proviamo a prendere un coso. Un ricerco. Che non hai mai preso. Laggiù c'è un cubo che non ho mai preso. Sti fai scopo e ti fa male. Cioè, hai paura del cubo? Don't fear the cubo. Bello. Bello. Che è qui? Un po' alluminio, roba. Ah, io? Dove sei andato? Ammazza che ventaccio. Ragazzi, è bellissimo. Stiamo colorizzando un altro via reta. Mi fa impazzire questa cosa. Ok, ricerca. È molto via il sole. È molto rapido. Merda. È molto veloce qui. Sì. 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 Cos'è qua la pagina? Sì. Sì. Stoccaggio. Ma non ce l'abbiamo già, stoccaggio? Forse ti fa uscire. No, non mi dire che mi fosci le cose vecchie, perché questo è un altro habitat. No. No, non ci voglio credere. No. Allora, facciamo così. Torniamo a Itta. Per il scacolo chi detto di vedere se puoi craftare le cose. È qui. Quindi, torniamo a casa e portiamoci il pannello solare e... Ah, io che botta. E, 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 e? Che altro ci prendiamo? Aspetta, com'era? Spiana. Era così spiana, che figo. Quindi se io mando giù questo, poi lui me lo accippa. Perfetto. A saperlo prima. Per riuscire a darlo. A saperlo prima, in effetti. Signori, ritorniamo sui nostri passi. Purtroppo all'inizio non dobbiamo fare per forza di cose così. Perché effettivamente sì, portiamoci il solare. E, però, speriamo che le nuove ricerche non valgano per il nuovo habitat, perché se no, dobbiamo verificarlo. Assolutamente. Ragazzi, stavo tornando a Incolto. Quando mi soccorto che adesso sono due i pianeti. Arido. Arido. No, Arido. Tundra già c'era. Sì. Arido no. Arido è la bontà, ma che cacchio è sto pollino qui? È un baghino. C'è un baghino, ragazzi, c'è un baghino incredibile. Tu non fai niente. Perché non mi segna a casa mia Incolto? Forse è quello. Sono molto arrabbiato. Questo si ha il baghino. È il baghino? Sì. Casa nostra? Allora, dovremmo essere tutto pronto. Cioè, dovremmo essere tutti pronti. Pronto. Vediamo se esce subito. Sì, che culo. Bello, pronto. Vieni qui, vieni qui. Vieni qui. Pronto? Dai. Eccoci qua. Vai a terra, laggando come la merda. E' incolto. Ragazzi, è bellissimo che possiamo colorizzare i posti. È troppo figo. Se non mi avessi fatto parcheggiare qui, nel posto più di merda possibile. Cioè, che se me sbaglia esplode tutto. Allora, mi sono portato con me la paleolica. Perché la paleolica vuole l'alluminio, se non sbaglio. Quindi attacchiamola qua. E come potete vedere... Dove consultare prima. Ma come non c'è vento? Guarda, vedi che fa... Dove vede il vento. No, ragazzi, come è possibile che non ci sia vento? Allora, visto che non c'è vento, stampiamo con la stampante. Vedete, mi sono portato il ramen. Eccolo qua. Stampa. La stampa, cioè, diventa stampante. Mi sono portato tutto, sono prontissimo. Guarda, non sarà anche di notte. Ma non c'è l'energia. È inutile. E ho lasciato la batteria. No. No, ho lasciato la batteria. Cosa? È un genio. No, ragazzi. È mu? È mu? È mu? È deserto. È deserto nel senso deserto? Arico. Deserto? Oh, oh, oh. Che postuleristico. Dov'è la mia? Ma dai, questo è vento. Vedi che ci sta... Effettivamente sulla luna non c'è vento, ora che ci penso. Però dovrebbe esserci, sappiatelo. Dovrebbe esserci, ma non c'è. Se ci fosse un po' di energia qui giusto per caricare questa, io potrei fare con due di compound, potrei capito? Uuuuh! Vento! Sì! Vittoria contro il nemico! Sì! Ok. Ah, che culo, che culo, mi sento molto fortunato. Allora, facciamo l'altra piattaformina qui. Yeah. Per effetto. Abbiamo il pannello solare, vuole il composto, ce lo mettiamo. Che culo. Sì. Che culo, che culo. E adesso possiamo avere sia pannello solare che ventone per le nostre ricerche. Certo, ero partito all'inizio, che avevamo il carro dell'amore, adesso non c'è più un cazzo, però va bene lo stesso. Quindi non ci dobbiamo lotterrare troppo, perché ragazzi, io sto senza riserbatoi, perché per fare spazio a tutto quanto, ah, questo ce lo prendiamo, questo ce lo prendiamo, questo è il paradiso delle ricerche. Ah, tra l'altro, vieni qui. No, non dire così, ha il fungo cattivo, per favore. Uuuuh, c'è la gravità diminuita. Vedi come salta? Sì, che figo. Che figo, ragazzotti. Sole, sole. Ah, tra l'altro no, le ricerche funzionano anche qui, perché stoccaggio è la traduzione sbagliata, sia per lo stoccaggio che conosciamo noi, che quello per una macchina, però non me lo fa fare, quindi evidentemente c'è un altro veicolo, signore e signori, vediamo che mi sa che questo è lo stesso, no, sì, sì, trovaci qualcosa di fighissimo, trovaci qualcosa di fighissimo. Sole, sole. Astronave. No, cioè, oddio. Allora stoccaggio va su astronave. Cioè, astronave, regà. Che cazzo vuol dire astronave? Bello. Sì, ricerca qui e non per cazzo. Quanta luce. Quanta luce, davvero, eh. Strafico. Oh, un'altra ricerca. Dai. Che mi trovi, 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 che mi è una carrocola, regà, ma che è una carrocola, addio, che pochia. Guarda là quanti ce ne sono ancora. Dove? Un mio Dio. Vai, 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 prendi tutto. Dopo un po' smetteranno, cioè non credo, cioè, stiamo in Alpha e c'è un botto di roba, astronave e carrucola. Astronave deve essere tipo un sistema più grosso. Sì, dove sei, tipo, sopra. vediamo un attimo se qui facciamo carrucola no non sta qui uuu il litio buono ci facciamo le batterie vediamo se carrucola sta qui no carrucola oddio si eccola che cazzo sei col titanio scusate la carrucola in italiano non è quella per tirare su le cose che cosa strange uuu un buco i funghi assassini stiamo attenti ai funghi assassini non li voglio vedere allora prendiamo guarda quanti prendiamo questi se ci da se tutti questi ci dessero il litio io sarei contentissimo non cadiamo qua sotto per favore ci servirebbe anche qui una macchina delle meraviglie però purtroppo il compagno il coso come si chiama no non cadere non cadere non cadere più piccolo oddio l'ossigeno 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 non mi dire che non rispona non mi dire 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 rispondo qui rispondo qui ma si beh no l'ultima volta che sono entrato sono entrato a casa là quindi facciamo così e adesso abbiamo salvato oh ce l'ho ancora un composto si perfetto facciamo i tater eeeh la oh molto better morbidissime morbidissime tater che ci hanno salvato la vita più più volte oh mio dio ah se premuti l'iri ma che figo se premuti l'iri mette lui a cacchio de cane cioè un po' troppo a cacchio de cane però come li riprendi ma li ha buttati non so che che stai facendo dei miei tater scusa non ho capito e si è indichi ma vedi che indica dannà ok dai hop 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 no che palle così però eh è un grande passo per marcus cron non salta più ah perché se c'ho questo qui non salta serrot serrot ragazzi serrot perché lasci lui indietro perché voglio farne due a botta molto arrabbiato molto arrabbiato dai dammi il litio che ci faccio subito un bello una bella batteria pronto? pronto pronto ah ok questo quasi quasi nuovo riprendo si e alluminio va bene molto molto arrabbiata shift molto arrabbiata se è il segnamento eh ma non lo so io l'ho fatto sperando che fosse una mini mini cosa solare no però e volevo ma no non ha funzionato guarda il pannellozzo solare come la va ah si come la va su questo qui non ci da niente ci da dell'ildrat grazie 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 tra tutte le cose che beh potevi dare se sei bloccato non c'è di terzina e io ce la metto qua dentro allora di qua andiamo di qua mi sa che questo ho finite le ricerche è un porcianci però lì vedo tante cose cicciotte però se io non mi porto l'ossigeno muore poi muoio capito dovrebbe essere la cosa piacevole morire vento dice shifty se mi facessi una piattaforma di di trading qui tu dici potrei pronto 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 ok potrei no è già finito e che cazzo qual è più vicino qua 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 dicevo potrei scambiare quello che trovo nelle ricerche con compound e tutte cose credo non lo so forse venga giù venga giù per favore venga giù sai che servirà a sto gioco un teletrasporto eh volevo tipo una cosa super figa che tipo ti riporti perché tipo io adesso devo far su e giù mille volte a meno che non torno indietro non prendo quattro pezzi di compound e mi faccio anche qui la macchinina no si no è sprecato è sprecato dici è sprecato beh pensa un camion di macchinine che prende cose per le ricerche no non ci voglio vedere il composto che schifo vabbè abbiamo un litio e io direi di tornare a casa per provare la magia dell'astronave della carrucola della carrucola carrucola che è? è vero abbiamo ancora scoperto che cazzo fosse la carrucola mi riprendo tutto quanto tranne il composto vabbè il composto lo lasciamo qui insieme a questa resina metti che signore e signori ci ridirgiamo a casa vai Geico signori questa è l'astronave porca puttana guardate qui la navetta questa è l'astronave quindi io direi di vederci la prossima puntata vediamo questa e la carrucola quindi ci saranno ancora cosina da fare bella rega ciao sugo sugo grazie a tutti